Uno qua sopra! Uno qua sopra! Che figlio di puttana! Puttana io! Lei non è italiano dalla 100 sembra eh? Potrei avere qualche parente... Non credo che voglio andare in questo aeroporto Anche io sono italiano! No, non è vero Lasciati tu non sei italiano Eh, dabbè, facevo burla! Dove stai andando Horacio? Non lo so, mi drogo, ecco di qua Lo so che ti drogo Bene Ok abbiamo... Abbiamo perso, possiamo andare a prendere al 72, andiamo Andiamo al 72, lascialo andare va L'ha visto spopolarsi? Eh vabbè Ma l'avrà fatta apposta? Secondo me no Secondo me no Ma recuperiamo lo mi dispiace A me no, andiamo al 72 vai Dici? Proxima volta impara . Non ho visto cadere viiiiiiiqui tutto lo spopolato sul tubo Non ce la voglio Non mi fiorisci write a morire non ti fermare per il suo motivo al mondo ripiesa questo muro che non è inoltre bel verso cristo cristo ma no cap cristo fermano il pazzerello porco porco il cat porco il cazzo fa e non ho fatto un casino il mano 4430 livello 2 per 19 mesi merda oh bravo xiu bravo xiu ah sì come dicono in aereo benvenuti su russia aeree adacciarsi le cinture se avete voglia e se avete più di una moglie siete benvenuti e mi piace mangiare che siamo già arrivati ok è già finito come siete più di una moglie siete benvenuti è giusto così però dove spara? non lo so ok ok ma f ma hanno le mitraglie io ho un fama sverde che c***o devo fare? trovarci e basta ma che c***o provo? non pensarci manco un secondo si ciao luca 33 ragazzi f preparate a tankare il surge con il 34 non ci credo ne ho appetito ne ho ributtato uno c***o 35 ne ha ributtati due nooo siamo noi è ovvio è ovvio è ovvio 3.000 ex ha ributtato due c***o c***o io mi fai una tortura io mi fai una tortura capito? metti quello c***o com'è che faceva? è una vita che non la canto vado entro sulla base a queste ancora che mi guardano non sono capaci quindi credono lo scandalo sulle basi lente faccio il vandolo ricorda che sono una giardana e tu sei il sandalo ho due etti divento etti sottofunghetti se mi permetti metto lucchetti sopraversetti sono sismetti ci fai contenti c'è chi c'è chi frate fammi provare è una vita che non la faccio metto la pala in buca c'ho il numero 9 che non mi batti stuto la mia gente parla di merda perché l'ha vissuto perché so come ti sento che non pradiscuto aumenta l'alimentazione per defo con l'alimentatore che si inventa storia di sfruttare l'alimentatore ogni 6 parolettito dipendenza con il metadone metà uomo a metà quale faccio il segno del dragone scrivo ogni sera 9 barre che fa per minchia gianna ti giuro quando mi fai venire una pisella durissima no no invece ragazzi se ti sparano alle casse il colpo entra abbiamo provato prima con zio piccione che l'abbiamo gli abbiamo sparato se sono italiani vi insulto la madre quella della nonna che ha messo al mondo quella di vostra madre che ha messo al mondo ieri sera ballava e applaudiva con quella specie di tette flusche che aveva brutto con le dina quella di smetterne di prendere quattro assieme ho quitato baciammi il ca**o tu mi ca**a che ti ha messo al mondo e ca**a che ha messo al mondo ca**a la tua nonna si in realtà in realtà si dai facciamo così ancora perché ti ho detto quella cifra lì va bene dai si ma non le riesco a trovare diversa la cosa infatti l'ho tenuto per te perché so che ti servivano grazie grazie allora fai il conto io finisco una cosa ci richiamiamo ciao ciao io non riesco a lavorare seriamente 3 milioni 540 4.412 3 milioni 540 se quella p***a non ti avesse messo al mondo quel giorno io sarei vivo andiamo 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho fatto la madre quella grande mignota ti piaceva proprio tanto la ricotta ma se tua madre è troa tua nonna è anche troa allora tua zia è troa piano 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 eh scusa me l'ho fatto prendere le mozioni attraggio è perfetto da qua vediamo una situazione no faccio attenzione che stanno ammettando tutti l'azio mancavo un figo di figa no ma fanno su qua ce l'ho visto eh due minuti let's go non mi sembra il caso non mi sembra il caso non mi sembra il caso